Sa quando il Presidente della Regione Lombardia dice pagheremo noi le spese processuali? Sì, hanno istituito un fondo che sosterrà così le spese di chi è accusato di eccesso o abuso di legittima difesa. Però, dottoressa, io le dico solo che non siamo un paese particolarmente violento perché dal servizio al netto di qualche esaltato che si eccita in maniera ancora infantile con le armi, che si sente rambolo, diciamo qui stasera di martedì, al netto di questi esaltati, lo sai che si sta armando, dottoressa, pensionati, le tabaccaie, i benzinai, gente assolutamente non violenta che per disperazione si arma.